Rita, vediamo insieme perché il Next System garantisce altissimi standard di sicurezza. La plastica robusta assorbe i possibili urti riducendone l'intensità, la gamba di supporto garantisce una stabilità totale, mentre la barra antiribaltamento è volutamente bassa per lasciare più spazio alle gambe del bambino. Ma soprattutto hai un secure display con indicatori a barre colorate che quando l'installazione è andata a buon fine diventano tutte verdi togliendo così qualsiasi dubbio. E l'installazione è non solo click, facilissima e velocissima.